Buongiorno a tutti, questa è la Gisamo qui con Lorenzo Dorni del Fossano. Ti chiedo che partita sarà, secondo te, sabato contro Sestri Levante, un campionato iniziato bene a livello di prestazioni, mancano ancora i punti, secondo te potrete trovarli sabato? Intanto buongiorno a tutti, partita sicuramente difficile sabato, perché è un'altra squadra che va a 200 all'ora, va molto forte, e anche loro hanno fatto zero punti, nonostante hanno fatto solo una partita, quindi anche loro avevano una grande voglia di fare punti. Sì, abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto delle ottime prestazioni, abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente, però abbiamo tanta voglia di rifarci e speriamo che sabato sia la partita giusta. Ti chiedo anche questo, in Coppa Italia invece state facendo bene, riuscite anche a far crescere i giovani, ovviamente tu resti uno dei giovani, sei un po' più esperto rispetto ad alcuni, ti chiedo in campionato questo può aiutarvi, può dare più giocatori possibili per riuscire a cambiare alcuni? Beh, certamente, magari c'è gente che deve ancora entrare in forma, c'è gente che ha avuto poche presenze in Serie D, e questo può aiutarlo sia a prendere forma fisica che a dare fiducia alla squadra, quindi può essere sicuramente l'aiuto anche in campionato. Chiedo solamente di questo, quale può essere, secondo te, l'arma vincente, l'arma in più rispetto al sesto rilevante per sabato? Sicuramente sarà la voglia, la voglia di portare a casa dei punti, quindi chi ne avrà di più poterà sicuramente riuscire a portare a casa dei punti e vincere la partita. Grazie mille.